Nicola D'Alterio è il nuovo direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e il Molise di Teramo. Una conferma in verità dopo 13 mesi da direttore facente funzioni al posto di Mauro Mattioli. Tanti gli impegni che aspettano D'Alterio, dagli investimenti milionari, dei nuovi laboratori nella sede di Collaterrato, alla stabilizzazione di tecnici e ricercatori, dal potenziamento della ricerca nel sequenziamento dei virus alla creazione di un'officina farmaceutica per kit diagnostici. Iniziano i nuovi progetti del suo mandato? Sì, prima di tutto l'edilizia. Fra circa 40 giorni, così come da contratto, cominciamo i lavori per il primo lotto della nuova sede e così colmeremo un gap, che è quello strutturale, che mancava, con la realizzazione di un laboratorio di massima sicurezza di caratteristiche BLS3, dove possiamo sperimentare e manipolare virus e batteri. Voi però realizzerete anche qui un'officina farmaceutica? Sì, stiamo realizzando. Ormai sarà pronta, direi, fra circa tre mesi, con un investimento di circa 2 milioni e mezzo. Stiamo realizzando un'officina farmaceutica per la produzione di vaccini batterici e per kit diagnostici. Nominati anche gli altri due direttori, quello amministrativo, Lucio Ambrosi, anche lui una conferma, e quello sanitario, Giacomo Migliorati. Quest'ultimo, una vera autorità scientifica in campo internazionale, esperto di sicurezza alimentare, di controllo chimico e biochimico degli alimenti e dei mangimi. E in questo momento di piena emergenza da coronavirus, viene spontaneo chiedere proprio a lui qualche consiglio di prevenzione. Contro il coronavirus il Ministero della Salute ha già dato a disposizione tutte le misure che ha raccomandato sono sufficienti a prevenire il contagio. Ovviamente, essendo una malattia infettiva, si trasmette con il contatto tra persone infette, tra un malato e una persona sana, c'è la possibilità che il virus si trasmette. Quindi, siccome in Italia, tranne l'ultimo caso che è annunciato questa mattina, non ce ne sono, quindi non c'è nessun pericolo di infezione. Come per l'influenza, bisogna lavarsi spesso le mani e altri piccoli accorgimenti che tutelano dalle infezioni in genere. Ma per il coronavirus, non avendo casi in Italia, non c'è nessun tipo di pericolo. Vogliamo ricordare questo concetto di One Health? One Health significa che la salute dell'uomo è strettamente legata alla salute dell'ambiente, quindi a un ambiente sano e alla salute degli animali. Noi lavoriamo in questo mondo e con questo approccio ormai da decenni.